Bene Leonardo, partiamo subito con un libro, un libro che ha anche, come dire, una forma, è un libro non ingombrante. Piccolo ma prezioso. Piccolo ma prezioso. Valeria Cantoni Mamiani, La lingua estetica della soglia. L'editore è Fefe Editore. Tra l'altro questo libro, per degli amanti dell'arte come te, perché io sono ignorante, porta delle immagini meravigliose, devo dire, dal Mosè di Michelangelo ad Alberto Sordi in Un americano a Roma. Ci sono delle fotografie molto belle. Di che cosa stiamo parlando? Allora, in italiano il sostantivo lingua si riferisce sia all'organo anatomico che al sistema di segni per comunicare. Quindi questo è un libro che ci parla di cibo, di eros, di ricordi e della lingua che è, soprattutto per l'autrice Valeria Cantoni Mamiani, filosofa, è la vera regina dell'estetica. Ogni uomo parla una sua lingua che è tessuta dalla sua biografia. Beh, com'è la tua lingua? La mia lingua è molto tessuta dalla mia biografia. Infatti ci sono dei bulloni. E trovo che sia molto interessante questa idea della soglia. La lingua è ciò che filtra, che ci permette di aprirci o di chiuderci al mondo. E quindi, appunto, è la custode della soglia. L'immagine di copertina, tra l'altro, è bellissima. È tratta da un bulino? Da una incisione dell'Ottocento francese, quindi grandi incisori alla Domier, no? Alla commedia umana post-Balzac, potremmo dire. Un libro veramente interessante. Adesso me lo leggo con attenzione. Posso tenerlo? Ne ho ricevute due copie. Una è per te. Ah, fantastico. Ormai sei popolato alla copia... Il popolare Piccinini. Va bene. Allora, lingua estetica della soglia, editore Fefe, Valeria, Cantoni, Mamiani. Iniziamo la nostra puntata.